La SSD Brindisi FC continua il suo campionato di vertice, la sua marcia verso la promozione. Ma ha bisogno di te, del tuo calore, della tua presenza allo stadio. Solo insieme a te, a tutti i tifosi e con la vicinanza della città, possiamo tornare alle categorie che ci competono. SSD Brindisi FC ti invita al fanuzzi a tifare Brindisi. Domenica 14 gennaio, ore 15 e 30. Brindisi copertino.